Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e mi trovo a IFA 2017, esattamente allo stand di Sony. Tra tutti i prodotti presentati qui a IFA 2017, quelli che mi hanno colpito di più sono queste tre cuffie della serie X1000. Qual è la particolarità di queste cuffie? È che sono dotate della tecnologia noise cancelling, ovvero sono in grado di cancellare i rumori di fondo, i rumori ambientali. Non è una vera e propria novità perché già l'anno scorso o perlomeno Sony è già anni che lavora sul noise cancelling come tecnologia, ma la cosa particolare è che è stata creata un'app che è in grado di modulare e di migliorare l'esperienza del noise cancelling. Innanzitutto sono cuffie premium, stiamo parlando più o meno di 3-400 euro di cuffie, quindi non super economiche e l'app è questa, è una companion app che vediamo qui su uno smartphone Sony in grado di detectare se state camminando, se state seduti, se siete in aereo o se state facendo dell'attività fisica. In questo modo potete controllare il livello di noise cancelling. È stata aggiunta anche l'adaptive sound control, ovvero avete un noise cancelling ma non così potente che vi permette comunque di sentire le voci sottofondo, chi vi sta intorno, degli annunci, per esempio nelle stazioni del treno, infatti personalmente non ho mai usato le cuffie col noise cancelling in giro per strada perché sono sempre stata terrorizzata del fatto, oddio cosa mi succederà, non sentirò la macchina, non sentirò l'annuncio del treno, non sentirò l'annuncio del gate in aeroporto e perdo sicuramente l'aereo. In questo caso non dovrebbe accadere perché attraverso l'adaptive sound control possiamo decidere il livello dei rumori di fondo, quindi in questo caso se siamo a zero abbiamo solo e soltanto i noise cancelling, non sentiremo nulla di nulla, più aumentiamo più avremo la possibilità di sentire persone, cose che ci stanno intorno in modo che venga adattato. Potete selezionare e decidere se state seduti, se state camminando, se state correndo o se siete su un mezzo di trasporto. Potete scegliere già dei preset in modo che attraverso l'accelerometro la cuffia riconoscerà quello che state facendo. C'è un microfono all'interno di queste cuffie che fa sì che vengano annullati i rumori di fondo. Le cuffie sono queste oppure abbiamo quest'altro modello che viene apposto al collo in questo modo, vi faccio aiuto, viene apposto al collo in questo modo e poi inserito all'interno delle orecchie. Qua dentro c'è tutta la tecnologia per cancellare il suono. Abbiamo infine quest'ultimo modello che sono dei piccolissimi auricolari che vengono inseriti direttamente nelle orecchie in questo modo. A loro interno hanno diversi tipi di gommini, chiamiamoli così, che si adattano a qualsiasi tipo di orecchio. Qua avete dei piccoli pin per la ricarica, quindi inserendoli direttamente all'interno della loro custodia si ricaricheranno. Quindi in questo modo sono in ricarica, vedete il lumino rosso che ne indica la ricarica e si possono ricaricare direttamente con un cavo micro usb. Per l'associazione con lo smartphone usiamo il NFC, quindi direttamente appoggiandoli su uno smartphone con tecnologia NFC possiamo accoppiarli con il nostro telefono. Qui dallo stand di Sony per ora e solo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo video. Un bacio, ciao!